Io Ascolto è anche un progetto che propone un potenziamento attraverso l'utilizzo del digitale nelle classi. Non offriamo solo il software, ma offriamo anche la strutturazione dell'aula digitale e aiutiamo gli insegnanti nella fruizione del software nostro e di tutti gli altri software che possono arrivare attraverso il web. Quindi andiamo in maniera capillare nelle scuole che aderiscono al progetto ad aiutarli ad allestire un'aula digitale. In tanti casi offriamo proprio della strumentazione hardware e aiutiamo a organizzare la rete per poter aderire e effettivamente fruire di internet.